Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per personale su strada segnalato nel tratto tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 in direzione La Spezia chiuso lo svincolo di Bercito in entrata. Sulla A11 le aree di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa e Serra Valle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di CPL per un guasto. Sulla FIPILI per lavori restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!